La prima guerra mondiale potremmo dire completa queste modifiche tanto per cominciare trasformando per tutti anche per coloro che non arriveranno a una soluzione di carattere pacifista ma trasformando la guerra in un problema quindi la guerra da strumento normale sostanzialmente delle politiche estere oltre che da nocciolo fondamentale della sovranità in quanto ius belli la guerra diventa un problema e come tale viene studiato da quel momento in poi non è un caso per restare alla disciplina di cui mi occupo che la prima cattedra della disciplina contemporanea delle relazioni internazionali venga istituita proprio nel 1919 in un contesto nel quale il problema fondamentale è proprio quello non solo della guerra appena conclusa ma della guerra come fenomeno in sé C'è una trasformazione nella rappresentazione di tutti i tipi della guerra compresa naturalmente la rappresentazione giuridica nella conversazione di questa mattina io mi sono in particolare fermato su un'analogia che ha un posto molto importante nella storia della rappresentazione della guerra che è l'analogia tra la guerra e il duello è un'analogia che noi troviamo per esempio in Clausewitz all'inizio della guerra ed è un'analogia che troviamo anche nella riflessione successiva per restare al diritto è l'analogia attorno alla quale viene costruita l'immagine della guerra nello ius pubblicum europeum di Carl Schmitt allora la guerra del novecento in particolare proprio la prima guerra mondiale è in modo direi quasi radicale il rovesciamento di questa rappresentazione della guerra come duello l'espressione stessa guerra totale allude a un rapporto con la violenza che è esattamente l'opposto del rapporto che con la violenza si ha con il duello mentre il duello è uno spazio concluso uno spazio conchiuso sia nel tempo che nello spazio con delle regole definite, con un prima e un poi molto chiaramente definito la guerra totale allude esattamente all'opposto nella guerra totale non c'è una separazione chiara tra combattenti e non combattenti non c'è uno spazio chiaro all'interno del quale tutta la violenza della guerra viene scaricata e naturalmente ci sono sempre meno regole e sempre meno sobrietà se vogliamo usare questa espressione nell'impiego della violenza la guerra del novecento è una guerra tutt'altro che sobria e anzi è una guerra che viene combattuta non dimentichiamolo con metodi sempre più evidentemente terroristici in una compenetrazione totale quindi anche tra combattenti e non combattenti per quello che riguarda Clausewitz che è stato usato in tutti i modi possibili la storiografia militare inglese ne ha fatto una specie di genio del male delle guerre del novecento altri al contrario hanno insistito anche sul carattere razionalistico che senza dubbio c'è nel pensiero sulla guerra di Clausewitz io mi fermerei proprio su questo punto la guerra del novecento è sfuggita per mille ragioni alla rappresentazione un po' indulgente senza dubbio che ne offre Clausewitz ma una delle dimensioni nelle quali è sfuggita più chiaramente è proprio la dimensione della razionalità Clausewitz rappresenta la guerra come un atto razionale e questo è anche il vero senso della espressione spesso ripetuta della guerra come continuazione della politica con altri mezzi quando Clausewitz usa questa espressione intende dire che la guerra è subordinata alla politica intanto in quanto portatrice di una logica razionale ecco la guerra del novecento e in modo particolare la prima guerra mondiale non restituisce la stessa immagine di razionalità non è affatto casuale per esempio che una delle immagini che viene più spesso impiegata sia nella memorialistica sia nella letteratura successiva alla prima guerra mondiale è quella dell'automa è la guerra come automa che è esattamente l'opposto della guerra come attività subordinata grazie mille 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 grazie mille